Una rivelazione scioccante scuote la famiglia reale e il mondo intero. Cosa sta succedendo alla principessa del Galles e come sta affrontando questa battaglia imprevista? Nelle tranquille giornate di Windsor, una notizia ha interrotto la pace. La principessa del Galles ha il cancro. Dopo due mesi di difficoltà, la principessa esprime la sua gratitudine verso la famiglia che è stata al suo fianco. Originariamente creduto benigno, un intervento ha rivelato la verità. Una battaglia contro il cancro è in corso. Condividi il tuo supporto e i tuoi pensieri nei commenti. Come possiamo mostrare solidarietà in questi momenti difficili? La London Clinic diventa il palcoscenico di questa scoperta dopo 14 giorni di ricovero. Ma di quale tipo di cancro stiamo parlando? Un sarcoma addominale è tra le ipotesi. Per restare aggiornato su questa storia e altre notizie importanti, iscriviti al canale e attiva le notifiche. I sarcomi addominali, maligni e insidiosi, crescono silenziosi, rendendo la diagnosi un percorso difficile. La lotta contro questo nemico nascosto è complicata, con trattamenti che variano enormemente. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!